Bene, cari studenti e cari studentesse di Quarta C, volevo fare una breve lezione per riprendere in mano il problema di Monty Hall, che abbiamo discusso in maniera però un po' troppo rapida in classe, l'ultima volta che ci siamo visti, prima della verifica, e vi avevo promesso una breve lezione di approfondimento, per cui rivediamo da un punto di vista teorico il problema appunto, e poi vi volevo mostrare la possibilità di costruire una piccolissima e semplicissima simulazione in Python per convincerci che effettivamente il risultato un po' controintuitivo che otterremo da un punto di vista teorico è valido effettivamente anche da un punto di vista dei tentativi, visto che in Python è facile giocare al gioco di Monty Hall anche migliaia di volte in pochi istanti, mentre per farlo veramente avremo bisogno di molto tempo, è un esercizio istruttivo anche da un punto di vista pratico. Allora, ricordiamo brevemente di che cosa stiamo parlando. Allora, se... ops... scusate... ecco qua... perché non funziona? scusate perché ho selezionato la gomma... allora stiamo parlando di Monty Hall, il nome poi del presentatore di questo gioco a premi... il problema è in seguente, abbiamo tre porte, chiamiamola porta 1, porta 2 e porta 3, e gli estremi del gioco sono i seguenti, dietro due porte... ci sono due capre... e dietro la terza porta... ci sono due capre... e dietro la terza porta... c'è una macchina... che voi chiaramente volete vincere... quindi lo scopo del gioco è vincere la macchina e non le capre... la distribuzione delle due capre della macchina è del tutto casuale... il gioco prosegue nel seguente modo... punto A... il giocatore... quindi voi, immaginate di essere giocatore, scegliete una porta... il punto B... il presentatore... che conosce la situazione... quindi il presentatore conosce in maniera perfetta la distribuzione delle capre e della macchina... il presentatore apre... una delle altre due porte... quindi non quella scelta dal giocatore... una delle altre due porte... e mostra... una capra... terzo punto... potete scegliere... se tenere... la porta... scelta nel punto A... quindi la porta del inizialmente... o cambiare... chiaramente con la seconda porta che è rimasta chiusa... non con quella aperta dal presentatore... e con dietro la capra... ok... quindi voi scegliete una porta... delle altre due porte che non avete scelto... il presentatore ne apre una mostrando una capra... questo lo può sempre fare perché le capre sono due... quindi c'è sempre la possibilità per il presentatore di aprire una porta con dietro la capra... ok... che non sia la vostra scelta... e... terzo... terzo punto... potete scegliere se tenere la porta che avete... in qualche modo scelto all'inizio... o cambiare... con l'altra porta che è rimasta chiusa... ok... quindi... a titolo esemplificativo... supponiamo che... queste siano le due porte... le tre porte... scusatemi... quindi... punto A... voi scegliete la porta 1... punto B... Montiol... apre... quindi... avete scelto la porta 1... punto B... Montiol... apre... per esempio la porta 2... mostrando una capra... quindi questa porta esce dal gioco... punto 3... potete tenere la 1... o scegliere la 3... la caratteristica interessante come abbiamo discusso in classe di questo gioco è che... con un ragionamento ingenuo... uno potrebbe pensare... beh... sarà il 50%... di possibilità... in realtà... abbiamo visto che scegliere... di cambiare la porta... aumenta la probabilità... di ottenere la macchina... e adesso cercherò di dimostrarvi il perché... quindi supponiamo... quindi supponiamo... chiaramente non cambia nulla se i numeri che sto per dare... vengono modificati... supponiamo che... a... scelgo la porta 1... per fissare una porta... e... b... il presentatore... mostra... la porta 3... ok... quindi... scelgo la porta 1... e il presentatore mostra la porta 3... e con dietro una capra... chiaramente... con dietro... una capra... ok... allora definiamo i seguenti eventi... immaginiamo di definire con... l'evento alfa... la macchina... è dietro... la porta 2... e con beta... il presentatore... è dietro... la porta 2... e con beta... il presentatore... con dietro una capra... ok... ok... questi sono... i due eventi... che adesso mi serviranno... per dimostrare... eh... il risultato che voglio... eh... dimostrare... ok... quindi... il presentatore... apre la porta 3... allora... l'idea è... calcoliamo... la probabilità... dell'evento alfa... avendo però... conoscenza... quindi... sapendo... condizionata... avremmo usato il termine... tecnico... la probabilità... dell'evento alfa... condizionata... all'evento beta... quindi ci chiediamo... qual è la probabilità... che la macchina... sia effettivamente... dietro la porta 2... sapendo... che il presentatore... ha aperto la porta 3... con dietro una capra... e per... per calcolare questa probabilità... usiamo... bias... la versione... semplificata... che abbiamo visto a lezione... questa probabilità... è... la probabilità... di beta... sapendo alfa... per... la probabilità... di alfa... fratto... la probabilità... di beta... allora... la probabilità... di beta... condizionata ad alfa... è... la probabilità... che il presentatore... apra... la porta numero 3... sapendo che la macchina... è dietro la porta 2... questa probabilità... è 1... perché... voi avete scelto... la porta numero... 1... e quindi... la porta numero 1... non può essere aperta... dal presentatore... il presentatore... può aprire... o la 2... o la 3... se lui sa... che la macchina... è dietro la porta 2... automaticamente... aprirà la porta 3... quindi la probabilità... che il presentatore... apra la porta 3... condizionata... al fatto... che la macchina... è dietro la porta 2... è 1... ok... la probabilità... alfa... cioè... la probabilità... che la macchina... sia... effettivamente... dietro la porta 2... senza avere altre... conoscenze... quindi la probabilità... to cure... che la macchina... sia dietro... una delle tre porte... è 1... terzo... ok... perché... all'inizio... la probabilità... è... che la macchina... è... una sola... su tre porte... quindi... casi favorevoli... su casi totali... la probabilità... che la macchina... sia dietro la porta 2... senza sapere altro... è di 1... terzo... e per finire... più beta... la probabilità... che il presentatore... apra la porta 3... e... però... questa volta... senza che... il presentatore... sappia... che la macchina... è dietro la porta 2... quindi... la probabilità... che apra la porta 3... sceglie... a questo punto... a caso... sarà 1... un mezzo... cioè... la probabilità... che apra la porta 3... o la porta 2... non la 1... perché la 1... avete scelta voi... è del 50%... se... non ci sono ulteriori... condizioni... quindi... abbiamo... che la probabilità... che il presentatore... apra la porta 3... senza ulteriori... conoscenze... è di un mezzo... perché ha due porte... a disposizione... e quindi... mettendo insieme questo risultato... otteniamo... 1... per... un terzo... diviso... un mezzo... e questo fa... due terzi... la probabilità... che la macchina... sia dietro la porta 2... è due terzi... qui... notate... che invece... la probabilità... che la porta... la macchina... scusatemi... sia dietro la porta 1... che è quella che avete scelto voi... sarà questo punto di un terzo... quindi... conviene cambiare... questa probabilità... è... il doppio... di... della probabilità... chiamiamola... P... gamma... beta... dove gamma... sarà... la macchina... dietro la porta 1... ok... cioè... è il doppio... questa probabilità... rispetto alla possibilità... che la macchina... sia dietro la porta 1... sapendo che il presentatore... appunto... ha aperto... la 3... sempre l'evento beta... quindi effettivamente... dal calcolo teorico con bias... risulta che... conviene... cambiare porta... è come se... è come se... aprendo la porta 3... ok... le probabilità... un terzo... all'inizio della probabilità che la macchina sia dietro una delle tre porte... abbiamo detto è un terzo... quindi un terzo... un terzo... un terzo... un terzo... di due terzi... non solo di un terzo... va bene... come abbiamo discusso in classe... questo... questo... risultato... alle volte può sembrare un pochettino... strano... eccola qua... ho preparato una... stupidissima e brevissima simulazione in python... che simula il gioco... ok... python l'abbiamo visto un pochettino l'anno scorso... non pretendo che tutti voi... leggiate il codice così... su due piedi... e tra l'altro è orribile... però... è solo per darvi... un'idea... l'idea è la seguente... supponiamo di fare un certo numero n di tentativi... in questo caso facciamo 100.000 tentativi... vedete... la possibilità di farli... nella realtà... chiaramente... non ci è data... inizializziamo due variabili... vincite se tengo... e vincite se cambio... entrambi a zero... e poi andremo a incrementare... queste due variabili... a seconda che... vinco se tengo la porta... o se la cambio... facciamo quindi un ciclo su... il numero n di partite... quindi queste sono... in questo ciclo faccio mille... no scusatemi... centomila in questo caso... tentativi... e l'idea è... prendo la macchina... in uno dei tre numeri... un, due, tre... a caso... quindi quando faccio... random, randint... uno, tre... scelgo un numero intero... tra uno e tre... quindi... o uno, due, tre... quella è la posizione della macchina... scelta è la mia scelta... e di nuovo... facciamo finta di... scegliere a caso... perché non ho nessuna informazione inizialmente... una delle tre porte... indichiamo poi questa lista... un, due, tre... con le porte... e per... per fare la scelta... Monti deve... scegliere... la porta da aprire... che non contenga... né... la vostra scelta... né la macchina... quindi ho usato questo trucco... definisco questa lista di porte... un, due, tre... rimuovo... la porta che contiene la macchina... e... se la scelta che ho fatto io è diversa... rimuovo anche la porta che ho scelto io... in questo modo... nella variabile porte... sono rimaste soltanto... o due porte... o una porta sola... che... quindi... vado a... eh... indicare con questa funzione... a Monti... per scegliere la sua porta... quindi... nella variabile Monti... c'è a questo punto... una delle due porte che non ho scelto io... perché la mia scelta è stata rimossa... e... che non contiene la macchina... ok... quindi... se... eh... le due variabili... macchina e scelta... scoincidono... mi rimangono due porte... tra cui Monti... può scegliere del tutto a caso... perché entrambe contengono le capre... se invece... la macchina è una porta... e io ne ho scelto un'altra... a Monti... rimane una sola... possibile... eh... porta da mostrarmi... perché... quella che ho scelto io... non la posso usare... e c'è dietro una capra... e l'altra... contiene la macchina... e non la posso usare... infine... eh... ho usato questo trucco... per... ehm... simulare... la scelta... in cui cambio... la porta... quindi se volessi cambiare la porta... dovrei prendere... l'insieme... uso l'insieme... in questo caso di Python... che sono un po' più comodi... l'insieme delle tre porte... un, due, tre... tolgo quella che ho scelto all'inizio... tolgo quella che mi ha mostrato Monti... e con pop... estraggo la porta che rimane... quindi questa è la porta che... ehm... diciamo... rappresenta... quella che non ho scelto all'inizio... e quella che non mi ha mostrato Monti... e a questo punto vado a contare... se questa nuova scelta... quindi questa porta... contiene la macchina... vinco se cambio... altrimenti vinco se tengo... finito il ciclo... vado a stampare... eh... il rapporto tra le vincite se tengo... o le vincite se cambio porta... sul numero totale di... eh... partite... quindi essenzialmente la percentuale di vincite... nelle due scelte... e come vedete... eh... rifaccio partire... la simulazione... da zero... intanto è molto rapida... come vedete... se tengo la porta... la probabilità di vincita... è di circa... il 33%... con... diciamo... chiaramente... ulteriori decimali... e se invece... cambio... la probabilità è il doppio... ok... quindi... eh... posso... ops... scusate... sbagliato... tasto... posso anche aumentare... facciamo un milione di partite... chiaramente ci mette più tempo... come vedete il risultato non cambia... la probabilità... di vincere... se tengo la... la porta... è di un terzo... la probabilità di vincere... se cambio la porta... è due terzi... quindi... nel gioco... conveniva... cambiare porta... va bene? bene... quindi... abbiamo rifatto... la dimostrazione... eh... con bias... e... abbiamo visto... una piccola simulazione... in python... ripeto... piuttosto... rosa... ma che... funziona... per mostrarvi... effettivamente... con... toccando con mano... che la cosa funziona... come previsto... teoricamente... va bene... se poi volete... potete provare a giocare... per conto vostro... e vedere cosa succede... se tenete la porta... o se la cambiate... vedrete che... se usate la strategia... di cambiare la porta... ogni volta che vi viene proposta... dal presentatore... la porta con la capra... ehm... vedrete che... la vostra probabilità di vincere... aumenta... cioè il numero di volte che vincete... sul numero totale di tentativi... è più alto... statisticamente... per ora... direi che è tutto... come sempre... spero che stiate tutti e tutte bene... noi ci vediamo... domani mattina... però... a distanza... buonanotte a tutti e a tutte...